buongiorno antonio ciao a posto guardate qua c'è pettina oggi siamo di nuovo con i ragazzi ottobre siciliano che dicendo c'è caldo caldo la giornata comincia bene e guardate cosa che hai trovato guarda cosa ho trovato una cosa stranissima un aereus che è una cosa amicidiale guardate guardate roccia pura ancora ottobre il papi antonio e guardate di nuovo che c'è oggi qua guardate dove siamo ciao micio ciao luca si si l'abbiamo visti allora andiamo micio allora vai guarda 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 spettacolare us un ottobre magico oggi sta tutta nascita un giorno di ordinaria magia un giorno alle isole olie guardate si aspetta papà si si hai vista la ringuaglietta di dome guardate 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 tutta roba sott'olio tutto sott'olio amici tutto sott'olio tutto bene spettacolare spettacolare e oggi sto bene ho dormito un po papà belle panzutiere aereus ci siamo imbattuti in una fungaia aereus aereus Vai, va Alla, ma Michu che troviamo? I niveri? Ma perché ci sono ancora niveri? Ancora? Vediamo sti niveri, uno, la cassutta c'è nero, mamma che niveri, guarda 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 Patata eros, ma questi neri Cappello traballa, cappello traballa alla cappella mobile E bravo Michu, bravo Luca, a dopo, si parlo da solo Dome, guarda hanno tagliato un fungo E poi guardate ancora, guardate, ancora stanno nascendo, questi li raccogliamo perché sono Una bella ceppetta dei tre, eh? Niuri, niuri Uno Due, tre Ma c'è un altro E vabbè Ok Aereus Praticamente siamo all'inizio dell'altra mega buttata, infatti oggi non li riprendiamo tutti perché stiamo trovando un'infinità tutti di nascita E guardate, 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 guardate che ci può, tutti, tutti i bocciolotti Tutti i bocciolotti Tutti i bocciolotti Non c'è più Ah, qua ce n'è un altro Quindi stiamo iniziando a fruttificare di nuovo, siamo già a metà ottobre e con le piogge che ci sono state e il caldo che c'è al 99% ci sarà un'altra grossissima buttata Guardate, questi neanche li tocchiamo, visto? Sono quanto un dito Questo neanche lo tocchiamo Amici, per ora vi saluto e a presto, dai, neanche riprendere tutto questo Ciao a tutti, ciao ciao